ciao a tutti benvenuti a gioca con me sono marta e oggi di nuovo una sorpresa per voi una bambola di monster eye e quella della monster family e se vogliamo vedere qui da vicino sponchi un po riconoscere vedete la famiglia di dracula questa è la cugira di dracula angelica è una piccola vampira con le ali e vedete anche con le orecchiette così e ai denti bianchi che luccicano come si vede dracula con la cugina per i bambini dai sei anni in su della mattel e qui dietro vediamo anche altri piccoli membri della famiglia per esempio dico di nuovo abbiamo pola wolf di laguna blu abbiamo ed i blu sì molto carini questi set così di famiglie dove i piccoli membri o grandi membri dei nostri mostrai vengono quindi così presentati apriamo la nostra piccola angelica magari c'è ancora qualcosa da scoprire ok attaccata quindi usano una forbice ok ho liberato la nostra bella bambola ci sono anche un paio di accessori e a quanto pare angelica piace cucinare fare torte qui c'è un mixer ok particolare però che in fondo ci sono delle mani e un po così con le schiette no come le conosciamo esatto così con delle spirali comunque nelle puntine un pochino pauroso sembrano così le zampe di gallina così che lei può mixare tutte le sue cose poi abbiamo anche una ciotola sotto con cui si può poi montare il tutto quando poi tutto pronto esce così una torta buonissima sembra fantastica no ora guardiamo questa figura di monster eye ha dei capelli bellissimi lila e due ciocche neri da cui escono così le due orecchiette che sono abbastanza elastiche il volto sembra abbastanza adulto perché la cugina è più piccola di dracola potrebbe anche essere un'adulta con questo trucco questo labbra prove per il resto sembra tutto molto così da bambino come queste ali poi anche questo vestitino vedete così con team i bistrelli poi mi piacciono molto i suoi sandali devo ammettere e poi qui a lato ci sono delle piccole alette no vedete si mi piacciono molto molto le sue scarpe assolutamente come se potesse stare da sola in piedi ah infatti sta in piedi da sola guardate niente male poi i capelli si possono sistemare come preferite magari si incontra con sua cugina fanno qualcosa chi lo sa altrimenti i nostri personaggi la monster eye si possono sempre così mettere attaccare il pavimento in questo caso non si può si muovono così le braccia come potete vedere ma anche solo davanti dietro quindi non lateralmente quindi non può fare per esempio una spaccata sì una bambola molto carina per me c'è assolutamente un pollice all'insù per la nostra cugina di dracola cosa ne dite voi cosa ne pensate e quali membri della famiglia preferite tra tutti scrivetelo sotto nei commenti sempre se le conoscete e se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice all'insù se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale guardate i nostri altri video e sì se avete schiacciato poi lì vi siete iscritti altrimenti guardate tutti ci vediamo alla prossima e mi raccomando ciao ciao